Parlare di musica è facile nel periodo di Natale, gli auguri di un maestro di musica e gli italiani, ecco il suo saluto e la sua giornata. Cari italiani, io vi auguro un felice Natale che ormai sta passando, Santo Stefano, il Veglione, il primo dell'anno, la Befana con tanta musica buona, italiana, riscosamente italiana, perché la musica italiana ha bisogno di essere un po' portata in auge, ci sono tanti artisti, tanti musicisti, tanti cantanti molto bravi, tanti autori che vale la pena di ascoltare, di ascoltare, di essere promozionati. Vi do un bacio, un abbraccio da Devo Morselli.